Ok allora, dopo un filo di warm up farò la serie allenante, l'unica, che sarà un time response, quindi sono scatti da 15 secondi, massima potenza, 15 secondi di scatto, 45 secondi di recupero, 15 secondi di scatto, 30 secondi di recupero, 15 secondi di scatto, 15 secondi di recupero, mi vado a scalare naturalmente, di nuovo 15 secondi di scatto, 5 secondi di recupero e di nuovo scatto a massima potenza. Nello scatto aumenterò la resistenza e pedalerò quanto più potente che possa, ovviamente la potenza calerà gradualmente e riuscirò gradualmente a avvitare e aumentare la resistenza sempre meno, sarà una specie di drop set a questo punto di vista, una serie così mi permetterà di imballare le gambe, nel periodo di recupero ovviamente è un recupero attivo, quindi diminuisco la tensione, vado e cerco di recuperare il più possibile i substrati. Questo mi permette al contempo di scaldare molto bene le ginocchia, che nella fase di volume precedente ho iniziato ad accusare un po' il ginocchio destro, per cui lo sento che se non scaldo bene bene mi fa un filo di tensione quando vado a fare le serie più pesanti, quindi voglio assicurarmi di iniziare con un lavoro che ha meno forze di taglio rispetto a quella che è per esempio una leg extension. Grazie a tutti.